E' l'upera! Per me l'era buono anche il placcaggio di Dio. Portalo fuori, vengelo fuori. Attoscenti di campus, cosa fai? Vai Carlone! Bravo Carlone! Rioccupa, rioccupa! Dov'hai? Non devi ridi, devi fermi, devi andare. Manca lo stegno. Ci manca lo stegno. E' sugli alberi stessi. Non lo vedi? E' laggiù, guarda. E non lo vedi perché è mimetizzato. Guarda le cicale, mimetizzate. Ti ami lo stile. Si? Lo stile è intanto. Mi riesco a giocare a smesso. Che si fa? E' finita? Oh, fischia! Fischia alla fine. Ma te stanno 1 a 1. Va bene, pari e patto. C'è rigore, no, pari e patto. Ma dovrei partire a centrocampi. No, è difficile. Fai 9, non puoi partire. Non puoi partire. Non parte mia. 10 a 4 metri. Ma non li puoi fare. Perchè piglia la brivina per passaggi su. E non dici che è partita. 10 metri. Perchè la mia volta si può staccare. E' fischia. 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 Inoltre. Eccolo. E' la nascosta la coppa. Marco? C'è 50 milioni. D'acqua. Dicido io. M'è? C'è il prefiglio del lago? C'è il prefiglio del lago. 准. Quello è con i due cestando. Quello c'è arbitra a Prato, quando si vince questo lago stesso. Bene. Faccio, vai te ai briefing. Non, dai. Faccio, vai te ai briefing senza maglia, ok? Qualunque altro... Non è che ogni partita c'è... Ogni volta c'è sempre la regolazione... Un po' c'è altri 50 minuti perché... Ma se arriviamo... Sì, comunque sia io... Appena finisce questa partita ci si fa... Sì, sì... Sì, sì... No, quando c'è altro... Nooo... Vogliamo vincere... Che ci fischiava... Ci fischiava... Un po' c'è... 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 Bestemmiare... Un po' c'è... 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 Un po' c'è...